quando le casette sono vuote vuote per favore allora io ho chiesto mi segnalate per favore però la cosa è chiara quelle case che abbiamo e poi ti controlli e poi ti controlli e poi ti controlli e poi ti controlli chi ti ha preso la casa noi abbiamo dato l'ordinario di liberare la casa e il Tarre le ha sospese per cui io mandato il Tarre ha detto la casa è vuota se la tiene fino a 3 va a 3 va a 3 allora